Fabio Rizio del team Radio Vela Agrigento, primo assoluto nella categoria e-bike al primo gran fondo della Concordia nella Valle dei Templi. Che sapore ha per te, Agrigentino, questa vittoria? Diciamo che tutte le vittorie sono belle. Vincere in casa è una cosa che ti riempie di gioia, perché il percorso l'abbiamo studiato, l'abbiamo cambiato mille volte proprio per renderlo sicuro, non dare preoccupazioni per i partecipanti di qualsiasi livello. Quindi il fatto di aver collaborato con il gruppo che si è impegnato tantissimo in questa manifestazione è una cosa che mi riempie veramente di gioia. Che gara è stata? La gara è durissima, diciamo che è dura, perché c'era un'altimetria abbastanza impegnativa, si arrivava a 1400 metri complessivi con uno strappone su a Giardina Gallotti di quasi 600 metri, dove non c'era la possibilità di recuperi, lì si spinge a testa bassa e si va avanti. Quindi diciamo che era anche da gestire, una gara da fare oltre che con le gambe, con un po' di testa. Tu non sei più giovanissimo, vincere alla tua età, lo possiamo dire, 63 anni ha di certo un sapore particolare. Diciamo che noi ce la mettiamo tutta, ci alleniamo regolarmente tutti i giorni, quindi per noi c'è la giornata di carico, la giornata di scarico, però non scappa una sola seduta di allenamento. Poi tutto il resto, quello che avviene per noi è un divertimento puro, la mia età apprezzo di più queste manifestazioni, proprio per finirle, per stare con il gruppo di bikers che sono sempre splendidi e amiconi come sempre. Ha trionfato nella categoria i-bike la famiglia Rizzo, tuo fratello è arrivato secondo, Vittorio? Sì, Morizio credo che abbia fatto anche un po' il gioco di squadra, perché io all'inizio eravamo un po' tutti assieme, ho cercato di andarne sul primo strappone, Morizio ha coperto la mia fuga non venendomi dietro, quindi chi era dell'altra squadra si è accodato a mio fratello e mi ha dato la possibilità anche di prendere quel vantaggio che sono riuscito ad amministrare fino alla fine. Eccolo qua il vincitore del primo Gran Fondo della Concordia nella Valle del Tempio di Agrigento, Alberto Lamandia, con Cristian Licata, l'organizzatore. Intanto, che vittoria è stata? Ma guarda, è una vittoria importante perché al di là della prima gara, come di Montembacchi, Gran Fondo di Agrigento, io essendo di casa ci tenevo tantissimo, alla fine dopo un impegno che andava oltre le mie possibilità, fortunatamente ci sono riuscito. Che percorso è stato? Ma guarda, il percorso è veramente bello perché al di là che passavamo dentro la Valle dei Templi, toccavamo anche altri comuni che solitamente non vengono sfiorati mai da manifestazioni come Montaperto e Giardina, è abbastanza tecnico, veloce, molto divertente. Vincere in casa ha un sapore diverso, speciale? Eh, ma ovviamente sì, perché sento di Agrigento alla fine, diciamo che è qualcosa di speciale, dai. Cristian Licata, tracciamo un consuntivo di questo primo Gran Fondo della Concordia di Montembacchi. Ma intanto la mia felicità oggi è indescrivibile perché avere visto vincere Alberto Lamandia, che è prima di tutto per me un amico, dopo è un gambione, l'ho sempre detto, fuori da ogni mura, vedere vincere lui un Agrigentino puro sangue per me è un motivo di orgoglio, e sono veramente felice, è qua in questo contesto veramente che è molto bello. Oggi siamo riusciti a portare a termine, mi auguro, ancora devono arrivare altri 240 circa atleti, una grande manifestazione, una prima manifestazione che ha veramente dell'ingredibile. Abbiamo abbracciato, come ha detto Alberto, le frazioni meno popolate, abbiamo dato vita, grazie oggi a questa manifestazione, come le frazioni di Mondaperto, Giardina Gallotti, e c'erano tutti gli abitanti lì festosi a dare il suo supporto agli atleti, ogni atleta che passava. Quindi io dal canto nostro e dall'organizzazione non posso che essere contento, felice e veramente soddisfatto. Al di là del numero importante di atleti che abbiamo portato nella città di Agrigento, perché hanno lavorato B&B, hanno lavorato strutture recettive, hanno lavorato bar, ristoranti, abbiamo dato un contributo sostanziale alla città di Agrigento oggi. Per la categoria e-bike, trionfo della famiglia Rizzo. Sì, hanno vinto i due fratelli, loro hanno collaborato con me nel tracciare questo percorso, quindi oggi giornata bianca-azzurra, diciamo, tutta Agrigentina. Per la tua agra-bike che esperienza è stata? Ma per la mia agra-bike è stata un'esperienza andando disastrosa, disarmante, mi hanno levato la vita, sono stanco, però ho dietro alle spalle delle persone meravigliose come Calogero Turco e Rossofasone, fratelli Rizzo, che per me sono stati ossigeno, sono stati ossigeno, senza di loro io non sarei mai riuscito a portare a termine quello che oggi centinaia di persone stanno vedendo. Ci sarà la seconda edizione? Ma godiamoci questa giornata andando.